buon sabato sono tutta bella come se avete questo è un canale lifestyle e come nel weekend mi sono fatta mi sono lavata e ho ancora il mio pigiamino con la parte su questa volta indosso sono natalizi però io l'indosso sempre quando fa freddo cosa mi è capitato a buon marzo fa freddo qui nevica fino a pasqua quindi comunque io compro su un sito che si chiama a bertha e mi ha anche da tante cose lì e avevo visto dei contenitori di questo brand bormioli sono di bormioli che diventano anche da target costano leggermente più quelli di quelli che di pyrex sono ovviamente perché sono importati con cose che sono importati dall'europa e ti costano tipico quando avevo visto questi qui e di la collezione frigo frigo verre non ho guardato bene ho visto la foto e della metto qui e dopo che è carino vale il prezzo era abbastanza importante però che sono scelto quella io pensavo che quella della foto era la misura più piccola però non ho letto bene quella della foto la misura più grande quella quella che mi hanno inviato che la misura che ho ordinato e questa qui piccolina non vi dico quanto forse da poi questa cosa 6 euro 5 6 euro l'ho pagato ma moltissimo di più ma tanto però stavo scelto di domenica lì e questo è questo questa collezione quello che mi interessa è il contenitore più verde nel mondo veramente e a tutti ecco perché l'ho comprato però pensavo di avere quello più grande no quello cosa 10 dollari in più di questo a io non ho contenitori di plastica a parte uno o due che mi danno quando compro il cinese lo porto a casa con biminesse cose del genere su questo quindi sfrutta quelli prima che si rompono per tutti i miei contenitori sono di vetro e ne ho ne ho di pyrex ora questo avevo detto un peso di limone e qui sono di pyrex non so se sapete però se la parola pyrex scritta in minuscola sono recenti quelli 20 sono in stampata in maiuscola no come questi sono quelli di pyrex e questi non costano poco pensano perché uno di questo che vota come cinque dollari perché questi di uso per il frigorifero e ne ho un altro questi anche queste di pyrex ne ho due di questi questi i cagnolini adorabile avevo comprato una di pyrex con mickey o mini mouse che lo quando per regalare quello che al tempo fa quindi io tutti questi contenitori e li uso per il frigorifero li uso per tante cose no quindi però questi hanno il tappo di plastica no per il conto di vetro e la differenza ora vi faccio vedere questi questo qui la cosa bella di questi qui o pyrex vende questi col tappo di legno anche col tappo dire che mi piacciono quelli però quelli sono non sono non so se quello si possono mettere in frigorifero comunque sono molto belli costano la cosa bella di questa parte che se vediamo questo ovviamente al limone però questo è il vetro è molto più leggero questo no questo questo vetro è molto pesante però sai l'ho pagato molto questo però dico che vale no no non vale a questi vedete qui è veramente pesante la cosa bella di questo che lo puoi mettere in frigorifero in forno nel freezer quando lo metti in forno ovviamente devi levare questa parte qui è il silicone devi questa no e la puoi mettere li puoi mettere in porti la puoi mettere in forno questo lo puoi mettere in forno quindi lo puoi mettere in forno microonde nel freezer frigorifero e hai questo gasket e di silicone quindi e poi è il fatto di un vetro veramente di altissima qualità c'è tutto tutto vetro lunga durata igienico sostenibile la cosa di questo prodotto che è molto sostenibile quindi l'ho preso ovviamente l'ho pagato tanto però mi riceveva vero quello più grande comunque e questo è stato uno mio sfizio come straordinario però ditemi voi che se avete visto queste collezioni frigo verde questa collezione qui quando cosa il piccolino quindi sicuro su 5 euro io l'ho pagato tanto di più perché le cose che sono importate non parlo da e già dall'europa la francia la francia l'italia costano no siamo lontani rimesso a posto quindi questo è stato però non è stata una fregatura perché non ho letto bene e ho fatto un assumption che quello era solo stavo comprando per infatti era questo piccolino però è veramente veramente pesante e a tutti i suoi e il contenitore più verde che io abbia mai visto lo dicono anche loro è veramente tutto only class only class for my planet appoggi è tutto fatto di prezzo di cose riciclate comunque altissima qualità l'ho pagato tantissimo però me lo sono è uno sfizio che mi sono levata perché non posso dire quanto è pesante però vale il prezzo che l'ho pagato no non penso non è troppo caro però per voi ditemi se parco come 5 euro hanno quella più grande a che costa 10 toni più di questo comunque sono felice ce l'ho devo provarlo in frigorifero però sono fatti capisco perché è molto pesante perché deve anche in questo parlano troppo di questo però mi è piaciuto di pormioli non so devo andare da target vedere i prezzi che sono lì da target ok cos'altro ora devo andare alla posta devo spedire questo pacco e la persona che ha vinto il premietto non si è fatta sentire quindi aspetto se la persona non si fa presente quando devo dare il premietto alla fine di questo mese per marzo la persona che vince il premietto di marzo avrà anche le sue cose no e se quella persona non si fa sentire la prossima persona avrà febbraio marzo aprile e così io non posso stare correre dietro le persone no l'ho annunciato in un video quindi così cos'altro non so penso l'avete capito qui a andare all'usato che io ci guardo spesso è un passatempo è proprio un nostro passatempo all'usato qui va da sempre e come sapete quando fa buon tempo fanno il garage se le persone mettono le cose fuori e la gente passa e compra ti liberi di cose superflue e le persone mettono cose fuori abbigliamento mobili è proprio un nostro passatempo nell'estate lo mettono nel giornale tutte le case che avranno queste questi eventi tu ci passi i diti fermi è proprio bello ci divertiamo non è il reciclo il reciclo è una buona cosa è quello un buon reciclo no però devi solo prendere cose che necessiti non accumulare di più per esempio oggi ho fatto una una piccola busta di cose che porterò a un consignmentship consignmentship sono questi negozi dove tu porti le tue cose buone e loro le rivendono per te e loro si tengono in una parte no e questo per me mi va mi va molto bene perché quello che voglio lo scopo di questo che loro hanno altre cose che io vorrei comprare quindi spero di poter vendere le mie le mi vende le mie cose e i ricavi non riuso proprio in quel negozio lì non voglio neanche i soldi voglio perché hanno delle bellissime borse che a me interessano e che le puoi comprare per una frazione del prezzo no quindi tutto torna tutto è tutto un riciclo positivo senza comprare cose nuove quindi ti riporterò lì io so quanto vorrei ricavare da tutto questo per comprarmi una borsa che hanno lì e preferisco comprare una borsa di pelle leggermente usata deve essere in ottima qualità che comprare una nuova perché continua a dare vita a una cosa che qualcuno ha cambiato idea o non li va più ma io ho trovato tantissime cose mai usate in questi siti dell'usato no abbigliamento non compro scape usate però però ho comprato un paio di scape nella scatola che non erano mai state indossate a un terzo del prezzo quindi tutto questo aiuta persone come me che non è che vanno sul risparmio provano a spendere bene i loro soldi no mi provo a spendere bene i miei soldi e anche per ora sono venuta a vivere in un nuovo posto ho una lista di cose che necessitano un parolone però che mi piacerebbe aggiornare e piano piano li comprano però ho sempre questa la mia lista se vado sempre a guardare nell'usato a vedere se trovo qualche perché mi interessa comprare vasi decori e ho certe cose in mente no e così quindi per andare all'usato qui è un passatempo è veramente non c'è niente di persone mica si vergognano di mettere le cose fuori e vendono perché no ti fa dei soldini ti liberi casa ti liberi casa di cose superflua ma la cosa è che quando andiamo a fare questi giri devi comprare solo le cose che necessiti di non accumulare però io ho questo questo giro di se compro all'usato ho portato quello in beneficenza ho portato tantissime cose anche due settimane fa ho portato un'altra busta avevo una borsa di pelle che non usavo e non rientrava più nei miei gusti e l'ho ceduta va bene loro la vendono e i soldi vanno in beneficenza a un rifugio poi c'è un altro posto qua in paesi solo una settimana fa è una chiesa e lo fanno una volta alla settimana e loro con quei soldi fanno offrono colazione ai poveri fanno tante cose per le persone che necessitano un po più di aiuto no quindi tutto tutto cose positive vediamo metterci in questo ciclo di cose positive che ci fanno stare bene questo è il mio pensiero e non sono passata dall'integuariato perché non ho soldi perché sto cercando la mia cameretta non l'ho ancora veramente sistemata in totale ma ci sto lavorando sopra sto cercando un piccolo una piccola scrivania ma deve essere molto piccola e perché le vedo nuove però la qualità non c'è più del vero legno quindi a parte si può pagare molto no quindi sto cercando questa piccola scrivania anni 50 ma anche se è di altre altri tempi basta che non voglio il legno troppo scuro e ho le mie idee però penso che l'investimento che ho fatto e ho comprato nuove lampade le lampade mi sorprenderebbe quando se avete poche possibilità solo cambiando le lampade cambia tutto le lampade o levare tutti questi gingillini che avete in giro levare tutto quello e avere gruppi di cose che sono molto più grandi fa tutta un'altra figura no quindi le lampade sono state e non sono state costosissime ho comprato tre lampade e uno di quelle che ho comprato quattro lampade ho comprato quattro a quella verde che non so se l'avete visto in uno dei miei video se ne è innamorato mio figlio e se l'ha presa lui è molto bella quella ne ho cercato un'altra di un altro colore ma quelle la vendono solo in quel colore è magnifica era gli piaceva troppo gli ho detto guarda prendila va bene ne prenderò un'altra chissà perché mi piace anche a me perché va col tappeto io ho il tappeto avete visto quel tappeto che metterò in cameretta due che ho lì quella lampada va con lì però forse ne comprerò un altro non so per ora non c'è non c'è i soldi nel budget però mi piacerebbe comprarmi una nuova borsa perché io ho un tote però ho visto sto guardando online in siti usati per comprare una cosa devi comprare sempre il meglio che puoi con i tuoi soldi i soldi non si buttano via non dico sempre i soldi non si buttano via mi sapeva per natale mi sono regalata questa la coperta come sapete perché mi piacevano i colori io stavo parlando con quel tipo che ha quell'antiquariato che ho preso cosa ho preso lì ho preso varie cose è un posto enorme mi piacerebbe da morire lui ha detto che noi che siamo entrando in una certa se stiamo entrando nelle sessantenne in più tutte queste cose che vanno di moda abbiamo già vissute quindi noi cerchiamo di cerchiamo più colore più vogliamo cambiare è vero quello vogliamo certe cose abbiamo già vissute quindi stiamo andando cambiando cambiare cambiare idea cambiare i gusti che cambiamo i nostri gusti è una cosa molto positiva perché se una persona vive la sua vita con gli stessi pensieri e gli stessi gusti tutta la vita quella persona non si è evoluta non è evoluta perché si vive con gli stessi pensieri lo stesso modo di vedere le cose gli stessi mobili le stessi cose si veste uguali nello stesso modo non ha evoluto non ha visto fuori la sua sfera questa cosa non è evoluta compratevi una lampada comunque perché i nostri gusti nel tempo e andando avanti con l'età i nostri gusti cambiano o vediamo altre cose e va bene perché io ho la casa molto eclettica mi piacciono vari stili e provo a abbinarli tutti insieme si può fare no però non pensavo diciamo dieci anni fa che mi sarebbe mai piaciuto il animalier però lo vedevo e negli anni lo vedevo abbinato in modi diversi ho detto questo sì ho iniziato a vedere certe cose più a 360 gradi invece di vederlo piatto no invece di dire all'animalier non mi piace però l'ho visto abbinato in modo delizioso questo e poi ci ho studiato sopra no e poi ho fatto il mio primo acquisto da zara home come sapete adoro li adoro questi questi cuscini penso da voi sono perché devi comprare la fodera e il dentro separatamente io l'ho pagato un cuscino 50 dollari che questo era 30 è fatto veramente bene e velluto di cosa dire spezzarano questa altissima qualità e il dentro era 10 era 20 dollari poi a natale dopo natale perché mi piace quando i cuscini puoi fare così non mi piacciono rigidi devono avere questa cosa così e questo lo puoi fare con questo tipo di cuscino che puoi fare così no l'altro poi dopo natale avevano una piccola promozione e l'ho preso l'altro che qui l'ho preso ho pagato 40 però la foto dall'anno mese da 30 a 20 e il dentro era rimasto sempre a 20 dollari però da voi questo costa forse 15 euro in meno ovviamente però così poi come sapete ho preso questo qui me l'ha venuto per 30 e ho capito e pensavo questa era camoscio ma questo è questo e questo però era velluto però questo è camoscio questo era 30 tutto fatto a mano adoro adoro tutto comunque perché l'animaliere come vi ho detto è un nucio è un nucio e lo apprezzo sempre molto di più però dando quei tocchi non non sono una che avrebbe tutto animaliere mi piace poi mi piace anche il floreale mi piace mi piace la vita mi piace colore penso questo è capitato anche quando ho fatto quando mi hanno fatto quella la morcromia come si chiama che hanno guardato i colori che mi sa e infatti ogni volta che indosso i miei colori mi fanno mi fate complimenti bella quella camicia ma non è la camicia che è bella è il colore e scelgo compro cose in colore che mi dò che dono la mia stagione di medici anche della stagione ci sono certi colori che ci donano bene e altri meno però possiamo indossare tutto io si vede quando una persona indossa certi colori illumina e certi no come questo questo è questo questo è un po mortaccia però ha il mio colore questo colore non è il mio colore certi colori ci illuminano quindi e come certi ombretti ci sta ci stanno bene e altri no e così certi colori ci stanno ci valorizzano di più ma non è che non possiamo indossare un colore che non ci valorizza e che certi colori ci valorizzano di io so quei colori quali sono io sto bene anche questo colore qui mi sta molto bene il turchese quello tiffany blu le persone dicono che è verde il colore di tiffany blu tiffany ha il suo pantone il suo colore pantone è unico tiffany ha quel colore che ha tiffany ha il suo pantone questo colore mi sta bene questo turchese mi sta bene il fuchsia sta bene questo rosa più acceso i colori e mi sa bene certi grigi e certi marroni non troppo scuri grigi medi mi valorizzano perché lo questo lo so perché poi lo confermate nei commenti ogni volta che indossa certi colori come bello quel maglione beh ma non è tanto il maglione è il colore capito che che spicca quindi è la stessa cosa con la casa dobbiamo circondarci da cose che ci fanno stare bene che entriamo in casa e tutto è ordinato e non c'è una marea di chincaglieria che ti sti proprio ti confondono la mente ma se sono un mio umile parere come io vivo la mia vita voi potete fare quello che mi pare sono solo condivendo che sono chiacchiere perché ho un po di tempo prima che vado alla posta che apre le nove di sabato poi passerò all'usato perché quello è un mio passatempo e poi devo andare a cps e poi torna a casa e il sabato per me faccio solo cose rilassanti ho fatto due lavatrici stamattina penso sono le otto e mezzo ho fatto due lavatrici per le mamme di mezzo così ho tutto lavato ho pulito la cucina e poi quando torno forse passa un po' l'aspirapolvere però faccio di poco perché oggi sabato mi rilasso sempre e ho appeso un altro quadro perché poi io ma io sono sempre stata così io metto una cosa in un posto e poi cambio poi la sposto qui fino a che il po quella cosa quell'oggetto trova la sua casetta no il suo posto continuo a spostare metto qui metto lì ma io sono qui che sono una persona smagnosa e non sono ma non sto mai ferma e sto sempre lì a pensare no a cambiare strategie sono fatta così sono una persona che si annoia facilmente perché ho bisogno di molti stimoli quindi mi autostimolo no faccio tante cose per stimolar la mente come si dovrebbe fare quindi troppe chiacchiere ora vi lascio però se faccio qualche altro video in più lo metterò altrimenti vi auguro un buon weekend grazie per avermi ascoltato questo canale non non offre niente a parte un po di compagnia basta tutto lì sì sì mi devo io sono un disastro come sapete sto aspettando fino alla fine di marzo mi vado a sistemare i capelli perché è stato veramente essa e lo so che stiamo arrivando alla primavera per me quindi qui no perché i fiori iniziano a sbocciare fino a di maggio siamo nel nord est fa freddo quindi voglio ospitare che c'è un po di buon tempo per farmi il taglio di capelli perché questi capelli mi tengono caldo farò anche quello devo prepararmi il budget così quindi noi io al mio pormioli ci sentiamo presto buon weekend a tutti ho comprato una cosa ha comprato questo piccolo tappetino vedete è di lana pura lana che io uso e so è molto fine anche però è tutto di pura lana è stato veramente un prezzo ragionevole e io lo uso per perché ne ho un altro più fine che ho spostato in un altro tavolino per fare invece di mettere un runner metto un tappeto perché molto bohemian look che piace a me dal mio telefono a televisione che uso solo per musica quindi questo è stato un mio acquisto le uni sono appena tornato al supermercato mi mancavano le carote il sedano ho preso del pane questo è veramente buono sono da price choppers e ho provato le lasagne per pranzo e ho preso questo di pastificio di martino 6 dollari lasciamo perdere vediamo qui che dicono graffilata pronto questo abbiamo votato che li provo devo fare il suco di carne la pesciomelo sai voglio fare tutto per bene e si mangerà un po' per grado dopo il cena perché ne farò abbastanza poi ho dovuto prendere una questa una bottiglia di vino da price choppers vendono vino ho preso chateau diana winery chardonnay from california dramma perché al supermercato a new york quando compri vino devi avere il documento non importa che età hai io non l'avevo con me mamma mia non come il manager blablabla non avevo documento perché avevo solo la branco ma però va tutto bene 8 dollari quindi questa è la mia spesa al supermercato ho speso non so questo era un dollaro e 50 questo 2 2 99 7 99 5 99 queste 3 49 fate il calcolo voi e poi sono passata al mio negozio dall'usato ho preso ho trovato un porto non si come in casa però questo degli anni 70 ma trovo sempre solo blu io voglio cercare io cerco verde o viola questo me l'ha fatto due dollari è in perfetta condizione perché io amo il vetro però non lo metto ve lo faccio vedere sopra un mobile però lo metterò altrove mi piace adoro se avete vetro questa è in perfetta condizione da due dollari poi per penso questo me l'ha fatta due o tre ho preso una camisetta questa ora la lavo la indosso lunedì adoro tutte le particolarità in ottima condizione la lavo due volte e poi la metto che ne pensate quindi no scusa il portacene me l'ha fatto questo me l'ha fatto un dollaro stesso spazio un dollaro e questo me l'ha fatto due o tre poco ok questo è tutto ora mi lavo le mani bene perché sono appena tornata e inizio a fare il pranzo proviamo queste pastificio di pastificio g di martino lasagne e poi vi dirò come viene ciao ora l'ho appoggiato qui perché mi piace perché c'è gli anni 70 perché è un po artistico un po' sculturo si sono fuori cosa c'è qui così comunque questo è sì me l'ha fatto un dollaro mi ricordo ora se vai su ebay almeno 15 ok sembra come quasi come un fiore no poi lo devo spostare l'ho appoggiato qui così lo potete vedere bene nella luce mamma quanto è buona le lasagne oh my goodness poi vi dirò come la pasta ciao buon weekend ciao